Allora, buongiorno, oggi è la spesa che ho fatto al punto simp di Palau, 9 settembre 2020, documento commerciale, via dicendo, iniziamo con la spesa. Sì. Buongiorno, l'hai detto? Certo che l'hai detto. Reparto macelleria, preso del pollo, mezzo pollo, che è uscito un chilo e a 4,90 il chilo, peso netto un chilo e 350 grammi. Il prezzo che è uscito è 6,62. Poi c'è Linus Lady, 9 assorbenti praticamente, 99. Il son per me. Come? Era 99 e qui ha scritto 1,9 euro, come mai? Non ne ho idea. Eh no, non andiamo bene così, poi li chiamo. Pomodori pelati Antonella, eccolo qua. 1,29, cadono, ne ho presi due, non so se li vedete. Sì, sì, si vedono, si vedono tranquillo. Poi torno a rio mare con piselle. Qui, quando all'ultimo momento non si sa cosa mangiare, che è tardi per qualche inconveniente, uno a persona di questi va anche bene col pane. La frutta, questo è, ogni barattolo, sono due per un euro e sessanta, non per un euro e sessanta. Sono due per un euro, sentiamo, è con l'euro, con l'euro stamattina ce l'ho. Allora, due per centosessanta grammi, ecco qua. Poi cosa c'è? Olio extravergine d'oliva, carapelli, carapelli di Firenze, il frantolio, vediamo come sarà, è un litro, è abbastanza costoso, se è buono va bene, 6 euro e 89 centesimi. Poi l'acce d'arborea, ve lo ripeto sempre, il migliore, questo è il latte, fa bene alle ossa. Potete anche fare lo yogurt con questo. Sì, è vero, concordo, molto buono esce. Poi c'è Vitalis Cammeo, croccante, con frutta, molto buone con latte, questi cereali, sono molto buoni. Sì, scusite, è bello croccante. 3,95 euro, lascialo ve li metto io, perché questi sono fatti. Sì, va a mettere dalla parte esterna, non vediamo l'altro. Caffè suerte. Caffè suerte. Caffè suerte, qui ce n'è, due pacchetti da 250 grammi, cioè mezzo chilo, 3,95 euro. Questo è uno dei caffè che a me piace di più. Costa meno oro, lavazza oro io prendevo una volta, quando avevo più soldi, ma adesso questo dico che è buono quanto è quello. E costa anche poco, diciamo. 3 zucchini verdi piccolini, a quanto sono al chilo, al chilo 1,89 euro, questi sono 450 grammi, 92 centesimi. Poi abbiamo uva bianca, questa è mezzo chilo, di uva bianca, questa è italiana, viene dalla Puglia, Bitonto esattamente, provincia di Bitonto. Sono mezzo chilo, 1,89 euro. Diciamo che è accettabile il prezzo. Poi c'è favolfiore, favolfiore, come? Era uno e qualcosa, invece qui l'hanno messo, era 1,69 euro mi pare, scritto. E invece qui mi trovo, al chilo 2,19 euro. Ma va bene così. E tanto? Peso netto, 650 grammi, 1 euro e 43. Ma? Questi giochetti a me non piacciono. E manca a me? Come i miei clienti non ho mai fatto queste cose. Ero molto precisa, perché non è bello, eh? Allora, questi sono banane, 4 banane, 1 euro e 89 al chilo. Peso, peso 855 grammi, 1 euro e 62. Eccoli qua. Sì, si vedono. Qua. Banane l'ho già detto? Sì, banane, certo, sono qua inquadrate. Sampo frutti anti-forfora. Non c'è? Di dietro c'è? No, non c'è, non credo. No, non l'hai ancora prelevata e va bene, non capita. Qui si comincia a perdere la roba. Oh yeah, oh yeah. Questo zanetto troller non è più. Non è più? Sampo frutti anti-forfora, 2 euro e 99. Shampoo. Shampoo, sì. Sì. Anti-forfora, shanto fortificante addirittura. Mmh, certo, ovvio. Quanto ce n'è? Sarà qui quanto ce n'è? Sì, ce n'è. Di 150 ml. Sì. Eh, lo conosco, è buono. Quindi anche se non si fa la recensione, vi sto già parlando di questo. Poi patate. Ah, shampoo pantene. Shampoo. Shampoo pantene. Questo è liscio effetto seta, setoso. Capelli opachi e crespi, siccome mia nipote li ha crespi e opachi, questo è buono. Anche se non è per i capelli ricci come i suoi, però penso che li gioverà. Ma sì, proviamolo. Pantene, lisci, effetto seta, top nonna, brava. C'è scritto proprio liso. Ah, liso. Capelli opachi e crespi. Sì, sì, sì. Ed è costato 2 euro, no, aspetta, pantene, 3 euro e 49, insomma, sono prezzi accettabili. Pantene costite un po'. Patate bianche, 2 chili, patate d'arborea, questi sono. Sì. Patate bianche, 2 chili, 2 euro e 1,59 euro. Poi? Un peperone rosso, invece verde, non cambia niente. Al chilo 2,99 euro. Questo è uscito... Vado a vedere. Eccolo. È uscito 250 grammi. No, 75. L'ho pagato euro 0,75 euro. Sì, bravissima. Per oggi la spesa è così, anche se siamo limitati da questa disgrazia globale, cerchiamo di andare avanti con pazienza e seguendo tutte le regole indicate dai sanitari, dai virologi. Stiamo molto attenti, usciamo quando abbiamo bisogno per andare a messa, per farci la spesa, aboliamo tutto ciò che non ci serve per vivere, perché noi vogliamo vivere. La vita è un dono che il Signore ci ha donato e quindi preserviamola più che possiamo per noi e per chi ci sta intorno. Un abbraccio virtuale a tutti, con tanto affetto, con tanti auguri, di non ammalarci. E che soprattutto finisca la peste del Covid-19. 2019. No, 2020. 2019. Adesso siamo, ma è dal 2019. È certo, è ragione tu, giusto, scusalo. Speriamo che il nostro Signore ci preservi a tutti, non solo a noi, ma a tutto il globo e che questo cattivo tempo passi presto per tutti. Io vi prego, avvocatevi al cuore di Gesù e di Maria, perché ancora non abbiamo una medicina, abbiamo la fede. Perché cerchiamo di stare attaccati al cuore di Maria e di Gesù nella preghiera, perché loro possono molto, possono illuminare i virologhi a trovare la medicina, però questa cosa non si sa quanto può essere fuori del controllo medico. E anche delle nostre attenzioni, ma intanto noi facciamo attenzione, seguiamo le regole. E il Signore ci manda la pace, la speranza e soprattutto la primiera. Ammere il Padre, il Figlio, dello Spirito Santo, ammere. Chi è a te o non me ne voglia, io non ho altre carte, fratelli e sorelle. Ciao, alla prossima. Ciao, ciao a tutte ragazze, a presto. Ecco la spesa che c'è qui, tutta quanta. Una breve panoramica e basta. A presto. Ciao. Ciao.